Si sono appena conclusi i lavori della quarta commissione, congiuntamente con la terza e quinta commissione. È stato approvato il provvedimento europeo, che è lo strumento che la Regione Abruzzo svolge nella fase ascendente e nella fase discendente delle leggi europee. La maggioranza ha votato compattamente. Al di là delle polemiche che ci sono state, c'è stato semplicemente un rinvio di un'ora doveva iniziare alle 10 la commissione e invece è iniziata alle 11, non mi sembra un grande problema. Il risultato però è stato ottenuto con un voto compatto di tutti i commissari della maggioranza.